Alla fine dei conti tra quelli che si poteva fare certamente di più ed invece quelli che alla fine ne poteva anche andare peggio, nel mezzo tutto sommato, può essere considerato un buon risultato per Montella e i suoi il pareggio del Rigamonti 1-0-0, quello contro il Brescia, che magari può non soddisfare appieno, ma che è arrivato al termine di una gara ostica, complicata, piena di insidie e soprattutto iniziata male con le rondinelle in gol nei primi minuti, azione cominciata, con un colpo di classe di Tonali e poi conclusa dal tapin di Aie, partito dal primo al posto di Mario Balotelli, ma a salvare o forse a tutelare i viola, la fortuna? No, il regolamento a seconda delle interpretazioni naturalmente ad entrare in scena, infatti il VAR, braccio di Tonali influente nel controllo della sfera, almeno secondo Calvarese, dunque gol annullato prima ed unica volta che la rete si gonfierà nei 90 minuti. Bisogna lavorare, ma bisogna lavorare sempre, no? Sì, nella finalizzazione sicuramente dobbiamo crescere, se vogliamo andare a stare qua su. Girando e rigirando intorno a questo pareggio le sensazioni sono più positive che altro con una Fiorentina che oltre al punto guadagnato in un campo difficile contro un avversario solido ed organizzato è tornata a lottare per la maglia col Giglio e soprattutto per tutti quelli che fanno tanti sacrifici per sostenerla, tutti quelli che non rappresentano affatto una percezione, ma un'indiscutibile certezza questa che gira il mondo e gira te, viva, nel cuore dei tifosi viola presenti in più di mille di lunedì sera nel settore dei rigamonti. Avremmo potuto sfruttare meglio quella situazione e magari vincere una partita dove negli ultimi 10-15 minuti si è spezzato un po' l'equilibrio a nostro favore e dove potevamo approfittarne. Dunque prendere solamente il meglio da questa partita, anche con la sostituzione di Chiesa nel mezzo, troppo nervoso dopo essere stato ammonito per simulazione, tra l'altro sanzionato dal giudice sportivo con un'ammenda di 2000 euro, tornando però al buono la squadra ci ha approvato fino all'ultimo in un pari senza reti che sì, certo non esalta nessuno, ma che comunque ha mostrato segnali di crescita all'interno della squadra e che per questo deve essere accompagnato con soddisfazione. C'è tanto ancora da crescere e ci sarà tempo per farlo, l'importante è sostenere questo momento che non vede i Viola perdere da ben segare consecutive, con la dovuta serenità e con tutta l'energia positiva possibile.